E' nostra competenza la manutenzione ordinaria delle opere del territorio, essendo azzerate gli stanziamenti per la manutenzione straordinaria è chiaro che le opere ne risentono e quindi l'appresentimento per noi è ancora più importante. Per quanto riguarda i consumi di energia causati sicuramente dall'abbassamento del nostro suolo, in conseguenza l'estanzione metano, i nostri consumi sono altissimi e, vista anche l'aumento del costo dell'energia, sono da noi praticamente non più sostenibili in modo così diretto.